Gentili telespettatori buona giornata. Quanti sono oggi 25 dicembre gli italiani senza vaccino contro il covid? Vediamo qual è la risposta dei numeri. Tantissimi italiani sono vaccinati ma molti non lo hanno ancora fatto e non hanno nessuna intenzione di farlo. La maggior parte degli italiani ormai si è vaccinata, hanno prenotato anche la terza dose, ma resta uno zoccolo duro di irriducibili, chiamiamoli Novax. Nonostante le raccomandazioni degli esperti, circa 6 milioni di italiani non si sono ancora sottoposti alla prima somministrazione. Erano 6 milioni e 100 mila, sono scesi a 6 milioni, ci sono 100 mila Novax, chiamiamoli convertiti, magari per logiche economiche, per non perdere il lavoro, per non essere esclusi dagli amici, dalla vita sociale. Il report diffuso nelle ultime ore parla chiaro. Escludendo la popolazione vaccinabile tra i 5 e gli 11 anni, escludendo appunto questa fascia di età, ci sono 6 milioni di italiani che devono ancora ricevere la prima dose. Vediamo i numeri. Tra i 40 e 49 anni sono 1 milione 221 mila 454. Tra i 50 e i 59 anni 1 milione 38 mila 570. Il maggior numero di non vaccinati si trova tra i 12 e i 19 anni. Sono poi il 18,47% quelli che ancora devono iniziare il ciclo vaccinale, una percentuale che corrisponde a 854.716 persone su una platea di 4 milioni 627.514, che comunque indica anche che è stato superato l'80% dei vaccinati in questa fascia. Ed è proprio la fascia 0-19 anni quella maggiormente colpita dal contagio nelle ultime settimane, come sottolineato da Silvio Brusaferro durante la consueta conferenza stampa settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. Gli esperti sono preoccupati per chi ha più di 60 anni, dove resiste una fetta di popolazione che non ha ancora ricevuto la vaccinazione. Sono 672.114 non vaccinati tra i 60 e i 69 anni e 403.412 quelli nella fascia 70-79 anni. In più ci sono anche 193.188 di persone che hanno più di 80 anni che non ne vogliono sentir parlare di vaccino. Tuttavia aggiungono anche notizie diverse, come sottolinea Silvio Brusaferro, il numero di ottantenni o persone che hanno superato gli 80, che hanno fatto la terza dose, è arrivato al 63-64% e contestualmente in tutte queste, in tutte le fasce d'età, cresce l'attenzione al vaccino. Tuttavia dicono che il tempo stringe perché nei prossimi 30 giorni, in quasi tutte le regioni italiane, è prevista la probabilità di dover utilizzare il 20-30% dei posti letti per i pazienti che necessitano di terapie legate al covid. Questa proiezione tiene conto dello stato dell'arte attuale e dei provvedimenti attuali. Nel momento in cui impattano nuovi provvedimenti, queste proiezioni possono subire assolutamente dei cambiamenti. Intanto molti dicono che il ritorno del tampone, tampone anche ai vaccinati per entrare in alcune attività, è un messaggio dicono distorto, perché dire che il vaccinato deve fare anche il tampone per entrare in alcuni luoghi insinua ovviamente dei dubbi nella popolazione. Dice come? Adesso mi fai fare anche il tampone. Bene. Intanto vediamo che, ad esempio, molti dicono che i tamponi antigenici non valgono molto, creano false certezze. Così Massimo Clementi, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano e poi presidente anche della società italiana di virologia è piuttosto critico sulle scelte del governo. Dice i tamponi antigenici, dice il professore, hanno una bassa sensibilità, lasciano fuori il 20-30% dei positivi e danno una falsa sicurezza di negatività a persone che possono infettare. Chi ha proposto al Premier Draghi questa cervellotica soluzione non ha fatto fare una bella figura al nostro paese. È una scelta costosa, inutile e persino dannosa. E poi, dice, gli antigenici non valgono molto e ormai sono diventati un business. Inoltre si lancia un messaggio distorto alla popolazione. Fate la terza dose ma poi fate il tampone per andare allo stadio. A me pare ridondante, dice il professore. Dice bisogna comportarsi con intelligenza, evitare gli assembramenti, usare sempre la mascherina e mi sarei aspettato, dice una discussione sulla scuola. Valeva la pena anticipare di una settimana la chiusura per le vacanze natalizie, perché la scuola ha un ruolo importantissimo, dice, nella diffusione dell'infezione. Ogni giorno sento almeno 5-6 persone con due dosi infettate dai figli che tornano dalla scuola, perché le scuole sono ovviamente uno dei cluster di diffusione più grandi che ci siano. Beh, dice a gennaio, bisogna pensare all'utilizzo del Green Pass, anche per gli under 12. La scuola è troppo importante per bloccarla anche l'anno prossimo. La didattica a distanza deve valere solo per i ragazzini che non si vaccinano. Io vi dico che la didattica a distanza è una schifezza. Io faccio l'università col computer. La scuola ha bisogno di presenza, non puoi fare una classe universitaria via internet, dicendogli leggimi da pagina 10 a pagina 40 e rispondimi alle domande che sono a pagina 41. Questo che è università, no? Io gli metto, hai il tempo una settimana per leggere qui e fare un quadro sinottico di quello che hai letto, ma che secondo voi questo è veramente fare scuola-università? L'università è un'altra cosa, bisogna parlare con gli alunni. Però, arrivederci a tutti e grazie.